Anche in Adobe After Effects abbiamo tutte quelle che sono le opzioni per gli stili di livello come li troviamo in Adobe Photoshop. Questi naturalmente non sono presenti sotto le varie opzioni del livello di testo dove troviamo delle impostazioni per il testo che vedremo nella lezione successiva e troviamo i controlli di trasformazione ma li troviamo in un altro menu. Quello dei layer, quindi livello, stile di livello o layer style, dipende se siamo col menu in italiano o in inglese. Qui all'interno troviamo tutte quelle che sono le stesse identiche opzioni che troviamo all'interno di Adobe Photoshop. Questo per varie ragioni, in primis va detto che tutti quelli che sono gli stili di livello che troviamo in Adobe Photoshop possono essere replicati all'interno di Adobe After Effects con degli effetti presenti all'interno del nostro software come ad esempio se vogliamo aggiungere un'ombra come si farebbe in Photoshop lo strumento di stile di livello mentre qui potremo tranquillamente cercare l'effetto drop shadow e aggiungerlo al nostro testo e ottenere all'interno del pannello controllo effetti tutta una serie di opzioni per la gestione della nostra ombra. ma dato l'enorme interscambio tra i software Adobe, che siano in questo caso Adobe Photoshop e Adobe After Effects, all'interno di Adobe After Effects possiamo importare progetti di Adobe Photoshop sotto forma di file PSD che portino agli stili di livello e quelli rimangono disponibili e modificabili. quindi è per questo che abbiamo la possibilità anche di poterli aggiungere a dei livelli ex nuovo realizzati all'interno del Adobe After Effects, quindi semplicemente andremo di nuovo su layer, layer style e qui troviamo tutti quelli che sono i classici quindi drop shadow ombra esterna, inner shadow ombra interna, outer glow bagliore esterno, inner glow bagliore interno, bevel emboss, che sarebbe l'estrusione, quindi l'effetto bevel, il color overlay, quindi riempire tutto il testo o anche un oggetto con un colore, gradient overlay, quindi aggiungere un gradiente e lo stroke, quindi per aggiungere un outline. Per tutti gli stili di livello disponibili all'interno di Adobe After Effects abbiamo la possibilità di ricreare gli stessi stili anche con tutta una serie di effetti presenti all'interno di Adobe After Effects. Ma una volta applicati, come si controllano? Beh, non essendo dei veri e propri effetti, quello che abbiamo a disposizione è un controllo all'interno del livello in sé, infatti all'interno del livello testo, in questo caso, selezionato drop shadow, mi è comparsa la voce layer style e all'interno troviamo quello che è il pannello o meglio tutte le opzioni, sempre tutte quante animabili, attenzione fate caso agli stop voce accanto a tutte le voci, abbiamo tutte le opzioni che troveremo all'interno di Adobe Photoshop per il controllo e la gestione della nostra Umbra, in questo caso. E come per Adobe Photoshop possiamo andare tranquillamente a disattivare momentaneamente l'effetto oppure a cancellarlo, come selezionandole premendo cancella dalla nostra tastiera. Ma un'altra opzione disponibile, come ad esempio aggiungiamo un paio di stili di livello a caso, aggiungiamo il glow, perfetto, abbiamo più stili di livello attivi, possiamo andare in layer, layer style e possiamo fare remove all, facendo così noi cancelleremo completamente dal nostro livello tutte quelle che sono le opzioni degli stili di livello ed anche il menu a loro associati.